Oh, ciao! Che cosa stavo facendo? Stavo mettendo dei vermi nel mio robot da cucina. E adesso... salsa di vermi! Ecco qui! Forse è il momento che Capitan Man e Kid Danger facciano merenda. Giusto, ragazzi? Sì. Vogliamo mangiare... la salsa di vermi. Su questo pane tostato. Va bene, miei cari spettatori. Divertitevi a guardare questo breve antipastino. Ma non dimenticate, quando raggiungeremo i 10 milioni di spettatori, Capitan Man e Kid Danger si toglieranno la maschera e riveleranno la loro vera identità. Ah! Evviva la salsa di vermi! Mi piacciono questi vermi! Sono felice di poterli mangiare! Lo faccio perché lo voglio fare. Vermi! E ora che facciamo? Non possiamo permettere che Franchini gli faccia togliere la maschera! Ci sono! Prendi quella crema e vieni a lucidarmi la testa! Ma perché? Mi stimola la concentrazione! Corri! Ok! 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 No! Movimenti circolari! Ok! Nell'altro verso! Dico sul serio, ragazzi, l'unica diretta che dovreste seguire è quella di questo ragazzo che vedete qui. Perché se non restate con noi, vi perderete... la tempesta di Puss. Che emozione! Siamo quasi a 10 milioni! Ah! Franchini è arrivato a quasi 10 milioni di spettatori! No! Accidenti! Ehi! Smettetela di guardare Franchini! Non lo vedete questo enorme brufolo disgustoso? Ditelo ai vostri amici! Mi e ben tenedio! Mi siete? Ah! Ehi! Ah! kalian RO vedo! Ci poti che succedete! Song? Grazie a tutti.